L'arte della fotografia ha sempre fatto i conti con il tempo e il movimento. Jacques-Henri Lartig ha avuto il dono di scoprire l'essenziale nel movimento. Questa passione per il moto del corpo e dell'animo fissato nel presente alla ricerca di una vita intera. L'esplosione di felicità la troviamo nel gioco, inteso come sport, ma anche come divertimento. Sul ghiaccio a pattinare e sulla neve, sulla spiaggia con la palla, oppure la spiaggia con le sue ombre e i suoi riflessi. Nell'acqua dove ci si tuffa e dove addirittura si può fotografare. Sulla strada, per scoprire se rappresenta il moto reale o l'interpretazione di quel moto. In aria, per raccontare le scoperte e le invenzioni di un tempo. Lo scatto è l'immensità del cielo, vero, immaginato e immaginario. Le fotografie di Lartig raccontano da dove vieni e dove stai andando. Le sue composizioni animate nello spazio diventano visioni per giocare a fare i fantasmi, oppure passatempi per grandi e piccini come andare a caccia di farfalle. Jacques Herry, Lartig, l'invenzione della felicità. Casa dei Treoci, staff dentro l'arte di Barchetta Blu, Silvia Pichi. Casa dei Treoci, staff dentro l'arte di Barchetta Blu, Silvia Pichi, staff dentro l'arte di Barchetta Blu, Silvia Pichi. Grazie. Grazie.